Buonasera e ancora di nuovo tanti auguri. Tra poco ci sarà come sempre il nostro telegiornale. Questo pomeriggio intorno alle 18, mentre lo preparavamo, è arrivata una notizia che è una notizia che ci colpisce, che colpisce noi, che facciamo questo mestiere, ma sicuramente anche molti di voi, perché è morto a Milano all'età di 91 anni, Giorgio Bocca, un grandissimo giornalista, scrittore, partigiano, un uomo che ha raccontato e ci ha raccontato le diverse fasi del nostro paese attraverso i suoi libri, i suoi racconti e i suoi editoriali. Un uomo che era un uomo riservato, ma sempre alla ricerca della verità. Recentemente aveva ritirato un premio nel 2008, il premio Ilaria Alpi e ci teneva molto a dire, soprattutto ai giovani colleghi, mi raccomando, cercate, cercate sempre la verità, anche se è difficile, ma io vi esorto a farlo e a guardarvi sempre intorno. Era naturalmente un invito per chi inizia questo mestiere. Naturalmente è una notizia che ci ha colpito, lo ripeto non solamente perché faceva parte della nostra categoria, ma perché davvero ha segnato la storia del nostro giornalismo. Allora vogliamo subito, in questa anteprima, ricordarlo così, farvelo vedere in una intervista di Bookstore, programma che va in onda su questa rete di Alain Elkan, concessa poche settimane fa. Sono sicuro di una cosa, che tutti quelli che fanno il giornalismo lo fanno sperando di poter dire la verità. E quindi gli dico di resistere e di cercare di farlo anche se non è facile. E questo era Giorgio Bocca, anche questo era Giorgio Bocca, naturalmente ne parleremo nel nostro telegiornale, così come parleremo di tutte le notizie che sono accadute oggi, intanto di quello che è accaduto in Nigeria. C'è stata una vera e propria strage, diverse esplosioni, si parla di 20-30 morti, si tratta di cristiani perché queste esplosioni, la principale in una chiesa nella capitale della Nigeria, ma poi ci sono state anche altre esplosioni, appunto hanno colpito i cristiani. E poi un Natale particolare, ne abbiamo già parlato ieri nella nostra edizione del Tg delle Venti, una vigilia, un Natale particolare dove abbiamo deciso di seguire davvero chi si trova molto, molto, molto in difficoltà quest'anno per la crisi, per quello che sapete che sta accadendo, quindi i poveri, i carcerati, insomma abbiamo molto da raccontarvi in questo telegiornale che inizia come sempre con i titoli. Natale di sangue per i cristiani in Nigeria, il paese africano funestato da una raffica di attentati, tre bombe esplodono in due chiese provocando decine di morti tra i fedeli, i terroristi attaccano anche sedi dei servizi segreti, un gruppo islamista nigeriano rivendica le stragi e minaccia, colpiremo ancora. Il dolore del Papa, la carneficina in Nigeria, frutto di odio cieco e assurdo, poco prima durante le celebrazioni del Natale in piazza San Pietro Benedetto XVI, aveva invocato la pace contro le violenze in tutto il mondo e chiesto la fine degli scontri in Siria. La crisi stringe vacanze brevissime per il governo, già da martedì Monti sarà di nuovo a Roma per preparare le misure per il rilancio dell'economia, il 28 prima riunione dell'esecutivo stoccata del Presidente del Senato Schifani nei confronti dei sindacati dopo la manifestazione di ieri. Se non si ha il coraggio di affrontare la realtà per quella che è, allora il paese non uscirà dalla crisi. E tra le sfide di Monti per il 2012 le liberalizzazioni accantonate nel decreto Salva Italia riparte dunque la sfida su taxi e farmacie, ma non solo. Intanto gli italiani fanno i conti amari di quanto costeranno complessivamente le misure varate per salvare il paese. Si ripete da 29 anni ogni Natale, ma quest'anno il tradizionale pranzo di solidarietà della comunità di Sant'Egidio ha qualcosa di speciale. Il suo fondatore, Andrea Riccardi, è infatti ministro con questa crisi. È un Natale duro, dice, però sento che in questo paese c'è una profonda e spontanea solidarietà. A 91 anni è morto nella sua casa di Milano Giorgio Bocca, una delle firme più importanti del giornalismo italiano. Era nato a Cuneo nel 1920 dopo l'esperienza partigiana dedicato la vita a raccontare giorno per giorno con rigore e attenzione l'Italia. Dal dopoguerra ad oggi. Buonasera di nuovo in Nigeria, dunque subito perché è stato un Natale di sangue, una bomba è esplosa nella chiesa di Santa Teresa provocando morti e feriti. Il bilancio ancora è provvisorio, c'è chi parla di 20 ma anche di 30-32 morti. Altre esplosioni si sono verificate nel paese e tutte vicino a luoghi di culto cristiani. Il Vaticano lo ha definito un atto di odio cieco. L'atto è stato rivendicato dalla setta islamica di Boko Haram. Cinque attentati in meno di 24 ore. Quattro contro chiese cristiane, uno contro un posto di polizia. È strage continua in Nigeria, il paese africano abitato da oltre 160 milioni di persone ricco di petrolio ma con una popolazione poverissima. Le immagini che vedete di cui vi risparmiamo i particolari più cruenti si riferiscono alla carneficina compiuta questa mattina nella chiesa di Abuja, la capitale del paese. Il bilancio dei morti fra i fedeli che assistevano alla messa di Natale è ancora provvisorio ma si parla già di una trentina di cadaveri recuperati. A far aumentare il bilancio delle vittime è anche la quasi totale mancanza di ambulanze nella zona. La strage è stata rivendicata dalla setta islamica Boko Haram legata ad Al-Qaeda e che si rifà alle tesi dei talebani afghani. Il suo nome significa l'educazione occidentale e peccaminosa. Si tratta dello stesso gruppo che solo quattro mesi fa rivendicò l'attentato contro la sede ONU della capitale nigeriana. ha costato la vita a 26 persone. Nel 2004 il gruppo diede vita a scontri violentissimi nella provincia di Kaduna con un bilancio di 216 morte. Il motivo scatenante fu un articolo di un giornalista che parlando del concorso di Miss Mondo che si stava svolgendo in Nigeria scrisse anche Maometto potrebbe innamorarsi di una delle concorrenti. Il gruppo islamico giovedì e venerdì scorsi ha attaccato tre città nel nord-est del paese. Negli scontri che ne sono seguiti sono morte almeno 103 persone. Poi fra ieri e oggi gli attentati contro quattro chiese cristiane nelle città di Damaturu, Ios e Kadaka. Agli attentati del gruppo islamico segue quasi sempre la reazione di estremisti armati di religione cristiana e animista soprattutto agricoltori stanziali di etnia taroc che si contrappongono a pastori nomadi musulmani di etnia fulani. Siamo noi che abbiamo colpito le chiese, ha detto chiamando al telefono l'agenzia France Press un uomo che fermava di parlare a nome dei Boko Haram. Sappiate che noi continueremo a colpire anche nei prossimi giorni. Ha concluso prima di riattaccare. E il Papa durante la benedizione Urbi e Torbi ha invocato pace e stabilità in terra santa. I conflitti e le calamità che hanno colpito il mondo sono state al centro delle preghiere del Pontefice. Dura condanna per gli attentati ai fedeli cristiani nelle chiese in Nigeria. La Santa Sede attraverso il portavoce Vaticano, padre Federico Lombardi, con una nota interviene poco dopo la benedizione del Papa. È purtroppo la manifestazione ancora una volta della crudeltà di un odio cieco e assurdo che non ha alcun rispetto per la vita umana e cerca di suscitare e alimentare altro odio e confusione. La notizia della carneficina turba profondamente il clima natalizio di Piazza San Pietro. Stamattina alle migliaia di fedeli giunti da ogni parte d'Italia e del mondo erano arrivati gli auguri in 65 lingue, compreso il Romanes dell'Etnia Rom, il Mongolo e l'Aramaico, dalla loggia della Benedizione sotto un tiepido sole che illuminava il Sagrato. Quindi la tradizionale benedizione Urbi e Torbi alla città e al mondo. Ma prima Benedetto XVI aveva rivolto l'attenzione proprio alle guerre e alle violenze che sconvolgono la terra. Egli che è il principe della pace, doni pace e stabilità alla terra che ha scelto per venire nel mondo, incoraggiando la ripresa del dialogo tra israeliani e palestinesi. Faccia cessare le violenze in Siria dove tanto sangue ci ha stato versato. Favorisca la piena riconciliazione e la stabilità in Iraq ed in Afghanistan. Doni un rinnovato vigore nell'edificazione del bene comune a tutte le componenti della società nei paesi nord-africani e mediorientali. Ha parlato anche del Myanmar, dei paesi della regione africana dei Grandi Laghi, Ratzinger, degli abitanti del Sudan. Si è soffermato sulle calamità naturali che hanno sconvolto il pianeta, la fame e le carestie. La comunità internazionale non faccia mancare il suo aiuto, ha detto. Il Signore doni conforto alle popolazioni del sud-est asiatico, della Thailandia e delle Filippine colpite dalle recenti inondazioni. E nel giorno della nascita di Gesù, il Pontefice ha ricordato che è stato mandato sulla terra da Dio per salvarci, soprattutto dal male profondo radicato nell'uomo e nella storia. Il bambino che contempliamo è la nostra salvezza. Lui ha portato al mondo un messaggio universale di riconciliazione e di pace. Pochi giorni di vacanza anche per il mondo della politica, soprattutto per il governo Monti. Al lavoro di fatto fino alla 23 di dicembre, alcuni giorni di riposo, ma già da martedì si torna al lavoro. C'è un consiglio dei ministri mercoledì, il giorno dopo giovedì, la consueta conferenza stampa di fine anno. E soprattutto c'è l'ora mai famosa e molto attesa fase 2 da mettere nero su bianco. Anno nuovo, fase nuova. Per Mario Monti la pausa natalizia a Milano prelude ad un fine anno di lavoro. Il premier sarà di nuovo a Roma martedì. Ed è certa una nuova riunione del governo, il 28. I ministri sono già stati allertati. Il giorno dopo Mario Monti terrà la conferenza stampa di fine anno, l'occasione per annunciare la roadmap del 2012. E cioè la fase 2, che dopo i sacrifici del decreto Salva Italia dovrà puntare su sviluppo e crescita. E non che il nuovo corso non toccherà temi assai delicati per partiti e sindacati. La riforma del mercato del lavoro sta già scuotendo il PD, mentre le liberalizzazioni sono un terreno più che scivoloso per il PDL. Monti si è dato tre mesi per affrontare organicamente questi capitoli e non certo perché pensi ad elezioni anticipate. L'orizzonte del premier e lo scorcio della legislatura è rimasto 15 mesi fino alla primavera 2013. Le manovre dei due grandi partiti che sostengono il governo, PDL e PD, che devono fare i conti con i tanti malumori interni, non sembrano preoccupare più di tanto il presidente del Consiglio. La sua bacchettata pubblica tre giorni fa in Senato, il sostegno che i partiti mi danno in privato è molto più largo di quello che mostrano il pubblico, era un modo di dire che è consapevole dei meccanismi della politica, ma è altrettanto convinto che né Berlusconi né Bersani potranno permettersi di staccare la spina al governo. Anche perché il quadro istituzionale intorno a Monti è più che granitico. Oltre al capo dello Stato, regista della nascita del governo, i presidenti delle Camere sono schierati al suo fianco. Fini è uno dei leader del terzo polo, la forza politica che con più convinzione sostiene l'esecutivo, mentre Schifani, che viene dal PDL, oggi ostenta il suo profilo super partes e subliberalizzazioni e pensioni invita tutti, sindacati e partiti, a rinunciare alle barricate. Io credo che in questo momento tutti sono chiamati a fare la propria parte, collaborare perché si realizzino quelle riforme strutturali che ci impone quasi l'Europa. Se non si ha questo coraggio di affrontare la realtà per quella che è, allora il paese non uscirà dalla crisi. E probabilmente la partita più attesa, quella decisiva che si giocherà, è quella sul terreno delle liberalizzazioni, degli incentivi della crescita, liberalizzazioni che riguardano diversi settori. Ci sono le edicole, ci sono i taxi, ci sono le farmacie e anche alcuni settori dei trasporti. Nel 2012 il governo Monti spingerà l'acceleratore su liberalizzazione e concorrenza. Obiettivo? Riproporre gli interventi su taxi e farmacie previsti nella prima stesura della manovra e poi attenuati in Parlamento. Rispondere alle segnalazioni che l'antitrust aveva fatto al governo Berlusconi e rimaste lettera morta su settori come autostrade, aeroporti, carburanti, gas edicole, poste, servizi pubblici locali, ordini professionali. Si partirà dalla legge annuale sulla concorrenza del 2009, mai attuata, per arrivare ad un provvedimento articolato entro fine gennaio. La partita è grossa, soprattutto sul settore delle farmacie, dove margini di guadagno e rendite sono alti. I fronti sui quali il governo picchia sono due. Da una parte favorire l'apertura di farmacie e parafarmacie. L'Italia ha un numero di farmacie in rapporto agli abitanti in linea con la media europea. Ci sono quindi ampi margini di miglioramento per raggiungere i numeri di paesi come Germania e Regno Unito. Dall'altra dare la possibilità alle parafarmacie, dove per inciso lavorano laureati in farmacia, di allargare il ventaglio di medicinali da vendere. Su questo il governo finora ha incassato una sonora sconfitta. La prima stesura della manovra prevedeva la possibilità per le parafarmacie di vendere i medicinali di fascia C, non essenziali, con obbligo di ricette fuori dal rimborso delle ASL. Un mercato che vale 3 miliardi di euro tra ansiolitici, analgesici e cortisonici. Lo stop è arrivato dalla Commissione Bilancio della Camera. L'Agenzia del Farmaco ha quattro mesi di tempo per decidere quali tra i 3.500 prodotti di fascia C potranno essere venduti nelle parafarmacie. Si spera a minor prezzo. Tutto lavoro per le lobby delle case farmaceutiche. Questo compromesso ha scontentato per ragioni opposte farmacisti e parafarmacisti. Il governo, dicevamo, tornerà all'attacco a gennaio nel settore c'è già fermento. Pensate che una società milanese che si occupa di franchising di parafarmacie cinque giorni fa ha presentato al giudice fallimentare un'offerta per aggiudicarsi 118 negozi blockbuster inclusi 100 dei 780 dipendenti dell'ormai fallita società di noleggio di cassette. Questi spazi vendita di notevoli dimensioni in media e importanti città sono infatti luoghi ideali per aprire grandi parafarmacie oppure per riunire in consorzio le piccole farmacie già esistenti in modo da affrontare meglio la concorrenza. In attesa della fase 2 però stiamo vivendo la fase 1 quella della crisi che è una crisi che si fa sentire e che si è fatta sentire anche in questo Natale con una riduzione sensibile delle spese e però appunto il prossimo anno evidentemente per il momento le cose non andranno meglio il paese è in recessione la crisi ancora è tutta da affrontare alle porte però ci sono molti rincari. Per analisti e sindacati il 2012 si annuncia l'insegna della crisi con perdita di posti di lavoro e del potere d'acquisto causa l'aumento di tasse balzelli che aggraveranno il costo complessivo della vita. In media denunciano le associazioni dei consumatori ogni famiglia potrebbe spendere 1.129 euro in più l'anno. I primi evidenti segnali di quello che ci aspetta si sono già avuti alla pompa di benzina dove immediato si è tramutato il decreto sulla finanziaria varato dal governo. I prezzi di verde e gasoli hanno scalato vette ma raggiunte che già oggi riportano i calcoli del Codagons influiranno per 219 euro in più l'anno per le auto di media cilindrata a benzina e 239 per quelle diesel. Il canone RAI costerà 112 euro un e mezzo in più rispetto al 2011 ma questa volta si potrà rateizzare. L'aumento dei carburanti abbinato al punto percentuale sull'IVA già approvato dal governo Berlusconi segnerà l'ennesimo ritocco trimestrale delle bollette energetiche il quinto consecutivo per il gas e il terzo di fila per l'elettricità. In questo caso registrano le associazioni dei consumatori gli aumenti calcolati per una famiglia media saranno di 53 euro l'anno. Benzina e IVA determineranno rincari su tutti i settori merceologici alimentari in primis e sui servizi specie di trasporti urbani. Molti comuni che già avevano attuato i primi rincari in alcuni casi anche del 50% potrebbero ritoccare ancora le tariffe mentre Roma e Torino anticiperanno l'aumento di 50 centesimi sul biglietto previsto a giugno. A Capodanno scatterà l'addizionale IRPEF che varierà da regione a regione in basso al deficit sanitario. Anche l'Imu, la nuova IC sugli immobili verrà determinata in base ai differenti parametri territoriali. Falsa allarme invece per le sigarette il loro prezzo non crescerà sopra i 5 euro a pacchetto questa è la stima crollerebbero le vendite al loro posto aumenterà invece il trinciato in busta utilizzato dai fumatori per realizzare le sigarette artigianali a prezzi almeno fino al 31 dicembre molto più contenuti. Ma c'è qualcos'altro da segnalare in questo anno che tra una settimana si concluderà nei fatti anche e nei numeri perché dal primo gennaio saremo nella 2012 è stato un anno difficile politicamente e con la crisi economica un anno in cui c'è stato un passaggio si è passati dal governo Berlusconi al governo Monti al governo dei tecnici a proposito di crisi, di tempi e di diversità Monti disse quando presentò la sua manovra l'abbiamo fatta in due settimane quando di solito ce ne vogliono almeno 5 per fare una manovra ma non fu il solo cambio di passo anche se in quel caso come dire d'obbligo si notò anche un diverso stile una diversa sobrietà anche nella comunicazione parleremo solamente quando avremo qualcosa da dire così disse un ministro un neoministro subito dopo il giuramento però poi dopo le cose non sono andate esattamente così Qualcuno lo aveva perfino chiamato vuoto mediatico prefigurando scenari grammi per i talk show televisivi a corto di spunti e possibili invitati mentre gli italiani erano in attesa delle misure la celebrata sobrietà del governo tecnico sembrava già diventata una vera e propria consegna studiare, capire, approfondire e solo dopo parlare lo aveva detto Ornaghi di sfuggita lo aveva ripetuto poi con logica d'altri tempi il ministro dell'interni i carcellieri parleremo quando avremo qualcosa da dire e le lacrime trattenute della Fornero insieme ai lode nelle auto blu italiane erano diventate la perfetta eco sostenibile icona della nuova sobrietà nazionale poi varata la manovra qualcosa sembra essersi inclinato le comunicazioni stringate hanno ceduto il passo alla tentazione di dibattito e a qualche esagerazione come se il muro iniziale fosse stato superato o si fosse perso di vista quel cono d'ombra nel quale i nuovi tecnici si erano con inedita discrezione rifugiati ed è arrivata così la fase 2 le prime apparizioni tv i balbetti i sullici i ripensamenti sulle frequenze le giustificazioni non abbiamo avuto il tempo le frasi di troppo quelle sull'articolo 18 della Fornero per esempio le gaff quella di Giarda su Mecacce e Company ripreso da Fini con scuse successive i propositi di migliorare ciò che sembrava già tecnicamente irrevocabilmente deciso e poi le aperture i piani addirittura su un futuro medico e ambientale più prossimo avventuro che immediato non esattamente all'ordine del giorno con qualche inevitabile ripercussione interna voci di richiami ad personam e commento del presidente del senato Schifani se è vero che Monti ha bacchettato i suoi ministri ha fatto bene lasciando immaginare che dopo la fase 2 ci potrebbe essere una fase 3 molto simile almeno dal punto di vista comunicativo a quella 1 e chissà da quanto tempo da quanti anni molte persone aspettano la fase 2 la fase 3 o la fase 4 o comunque il momento di stare meglio sono tutte quelle persone che da molti anni passano il pranzo di Natale alla comunità di Sant'Egidio evidentemente sono persone che vivono periodi di crisi e in povertà quest'anno ha pranzato con loro anche il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi nella sua veste di ministro è bellissimo solo essere insieme è molto bello questo è Natale diciamo Mamadou senegalese con tutta la sua famiglia seduto a tavola accanto a Maria anziana che vive in ospizio sono 700 tra i migrati e rom cattolici e non emarginati e senza casa malati poveri insomma il menù lasagna al forno polpettone con purè lenticchie panettone e spumante il tutto servito da camerieri volontari che spendono così il loro giorno di festa Roma la basilica di Santa Maria in Trastevere si trasforma in una piccola astronave di umanità varia e il tradizionale appuntamento con la solidarietà il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio che si ripete da 29 anni e questa volta ha tra i suoi tavoli un rappresentante del governo Andrea Riccardi ministro della cooperazione internazionale dell'integrazione che della comunità è padre fondatore con questa crisi dice è un Natale duro per i più poveri ma nel paese c'è una solidarietà che sta crescendo aggiunge l'Italia ce la può fare non senza qualche preoccupazione per gli ultimi episodi di razzismo sono segnali io penso che gli italiani non sono razzisti certo ci sono alcuni fatti che ci preoccupano molto ci sono segnali preoccupanti ma noi dobbiamo dire proprio come Stato che ci deve essere sicurezza per tutti in Italia per quelli che sono nati in Italia per quelli che non sono nati in Italia per quelli che hanno un'altra storia rispetto a quella degli italiani oggi solo a Roma la comunità di Sant'Egidio ha distribuito oltre 13.000 passi caldi iniziative analoghe in altre città italiane in 73 paesi del mondo ospiti a Santa Maria in Trastevere anche la presidente della regione Lazio Renata Polverini e il sindaco di Roma Gianni Alemanno a tavola accanto ad un rappresentante della comunità africana e c'è chi a Natale oppure a Ferragosto come d'abitudine va a fare un giro per le carceri italiane per i penitenziari che oramai denunciano da tempo un livello di vita davvero inaccettabile c'è il sovraffollamento ma ci sono condizioni oramai definite inumane sono i radicali che questa mattina si sono recati a Roma a Regina Celi i radicali vanno in carcere da sempre ininterrottamente parlano dunque con cognizione di causa quando uscendo da Regina Celi denunciano oltre al noto sovraffollamento condizioni di vita inaccettabili in via della Lungara come del resto in tanti penitenziari italiani si sta strettissimi 1200 persone in ambienti pensati per 600 in tre in una cella da 7 metri quadrati in sei in una da 14 un paio dormono su materassi buttati a terra quando la Corte Europea per i diritti dell'uomo considera lo spazio inferiore ai 3 metri quadrati a testa un trattamento disumano e degradante a Regina si chiama così tra gli abituai del luogo oltre allo spazio vitale mancano la carta igienica i termosifoni caldi le docce e si resta chiusi in cella per 20-22 ore al giorno non ci sono i riscaldamenti le mura sono fatiscenti e piene di umidità non ci sono i vetri alle finestre tutte le tazze e tutti i lavandini perdono in continuazione acqua non goccia se vai a farti la doccia ne funzionano una su tre se vai a farti la doccia l'acqua calda non arriva la realtà dei fatti è che intanto questo carcere dovrebbe essere semplicemente chiuso in Italia c'è criminalità di Stato e di Repubblica e i diritti umani quelli semplici sono assolutamente negati la meta dei radicali è sempre l'amnistia caro Presidente io la devo vedere dovremo pure inventare trovare qualcosa ha detto Pannella giorni fa dalla sua radio rivolgendosi a Giorgio Napolitano né i radicali né gli operatori del settore trovano risolutivo il decreto svuota carcere entrato in vigore l'altro ieri peraltro con gli uffici chiusi per il Natale nessuno ha ancora potuto beneficiarne nelle prossime settimane cominceranno ad uscire i detenuti ammessi a scontare ai domiciliari gli ultimi 18 mesi di pena in un anno il provvedimento riguarderà il 5% della popolazione carceraria circa 3.300 persone su oltre 68.000 unità il sovraffollamento non sarà alleggerito più di tanto nemmeno con l'iniziativa di trattenere nelle celle di sicurezza della polizia giudiziaria gli arrestati che attendono il processo per direttissima non si incide minimamente sulla condizione vergognosa in cui sono costretti a vivere i detenuti ma è un provvedimento che serve esclusivamente a non superare la soglia di 69.000 persone detenute soglia oltre la quale nelle carceri italiane non ci sarebbe più spazio neanche per dormire nei corridoi e c'è anche il calcio scommesse una pagina che si è aperta più riprese quest'anno ma non solamente quest'anno capita purtroppo sempre più spesso l'ultima vicenda è quella che riguarda l'Atalanta il suo capitano Doni che è tornato a casa agli arresti domiciliari dopo le ammissioni fatte agli inquirenti la sua squadra si è definita dopo evidentemente queste ammissioni sorpresa e amareggiata ma quella delle scommesse truccate nel mondo del calcio purtroppo lo ripetiamo non è una novità è una storia che troppo spesso si ripete anche in alcuni casi con una difesa dei personaggi implicati Finora la società e i tifosi lo avevano difeso a spada tratta ora che l'ex capitano dell'Atalanta Cristiano Doni ha ammesso davanti al giudice delle indagini preliminari Guido Salvini che sapeva della Combine di Atalanta Piacenza di avere scommesso sulla gara per interposta persona e di avere inoltre tentato di fare la stessa cosa in occasione della partita contro l'Ascola Bergamo nei suoi confronti non ci sono più sentimenti di amicizia il vento è cambiato tutti si sentono traditi dall'ex capitano che tanto hanno amato e difeso anche l'Atalanta nonostante i giocatori abbia escluso un coinvolgimento dei suoi dirigenti ha preso le distanze dal calciatore in un comunicato apparso sul sito ufficiale si legge che il club ha preso atto con sorpresa e grande amarezza del fatto che Doni che ieri ha ottenuto gli arresti domiciliari davanti al giudice ha ammesso molti degli abdebiti a lui contestati la società sottolinea di essere sempre stata in buona fede e fermamente convinta delle stranità del giocatore ai fatti contestati la nota si conclude con l'impegno che una volta concluso l'iter giudiziario la società si riserva di agire con tutta la necessaria fermezza in ogni possibile sede contro chiunque abbia danneggiato la sua storia immagine e onorabilità nonostante il giocatore fosse stato coinvolto in un'altra storia di calcio scommesse e ne era uscito innocente in molti in occasione del recente scandalo lo avevano difeso tra questi Vittorio Feltri grande tifoso della squadra nerazzurra che in una puntata di piazza pulita aveva dichiarato che Doni è un bravo ragazzo e anche se i giudici lo dovessero considerare colpevole il suo giudizio su di lui non cambierebbe e ve lo abbiamo anticipato e mostrato nella nostra anteprima questo pomeriggio è arrivata la notizia della morte di Giorgio Bocca a Milano aveva 91 anni un grandissimo protagonista della storia del giornalismo italiano ci ha raccontato tanti periodi dalla resistenza tutta la politica l'attualità politica e agli anni di piombo il terrorismo una firma che sicuramente mancherà ma per uno che ha fatto uno che ha fatto il partigiano che pensava di aver ricostruito non solo l'Italia ma la morale del paese e ha vissuto questo fallimento totale è difficile avere dell'illusione Giorgio Bocca è stato un partigiano sulle montagne piemontesi comandante di una divisione di giustizia e libertà dopo essersi arruolato con gli alpini e nei giornali GL la gazzetta del popolo l'europeo il giorno e Repubblica che fondò con Eugenio Scalfari nel 76 ruvido sabaudamente rigoroso pessimista fino al catastrofismo indignato come può esserlo un giovane vecchio di 90 anni anti berlusconiano dopo aver lavorato nelle tv del cavaliere no global senza abbracciare i movimenti amante del buon vino e della buona cucina dello sci e della montagna un borghese senza salotto un resistente o semplicemente un anti italiano come il titolo della sua rubrica sull'espresso e come Indro Montanelli ma senza mai turarsi il naso dopo la caduta del fascismo aveva pensato che il modo migliore per tenere in piedi la baracca come diceva lui fosse fare il giornalista non il politico scrivere e scrivere chiaro raccontare l'Italia del dopoguerra prima e del boom economico dopo i delitti di provincia certe tragedie come l'alluvione del Polesine dopo lo sbarco a Milano e all'Europeo era passato al giorno di Enrico Mattei e Italo Pietra quotidiano d'assalto ma anche di un editore con la forza del petrolio e dell'ENI con le mie inchieste mi ero quasi convinto di essere uno che incuteva paura ai potenti la megalomania dei giornalisti è quasi sopportabile nella sua ingenuità la verità è che ero il giornalista di Enrico Mattei del potentissimo ENI con cui i padroni del vapore dovevano fare i conti poi era venuta la Repubblica e la tv con Berlusconi aveva raccontato il terrorismo ma anche la mafia la sua intervista a testamento al generale dalla chiesa poco prima del suo omicidio resta un pezzo di storia del giornalismo poi ascesa e caduta di Graxi l'avvento di Berlusconi in mani pulite la lega di cui aveva colto il sapore rivoluzionario degli albori quando era sceso all'inferno del sud l'avevano accusato di essere un razzista nordista di indugiare sulla plebe di Napoli e sulla mafia di Palermo ha venduto due milioni di copie di libri e se ne vantava l'ultimo grazie no uscirà a postumo a gennaio e l'intervista che avete visto nel servizio di Guichi Appaventi è stata realizzata poche settimane fa all'interno della trasmissione di Alenel Khan Bookstore adesso invece andiamo in Russia dove ieri c'è stata la grande manifestazione di piazza contro Putin e contro i brogli per denunciare i brogli delle ultime elezioni oggi c'è la replica di Putin che dice ho ancora la maggioranza ho il sostegno sia come politico che come candidato al Natale ortodosso mancano ancora due settimane e solo per la minoranza cattolica Mosca oggi è un giorno speciale ma una volta ancora è a cavallo delle festività cristiane che la Russia vive i momenti più cruciali tra le 60 e le 80 mila persone ieri sono scese in piazza nella più grande manifestazione dell'era post sovietica per protestare contro lo scambio di ruoli tra premier e presidente che a primavera dovrebbe riportare alla più alta carica del cremlino Vladimir Putin e la vittoria del partito di governo Russia unita nelle elezioni legislative del 4 dicembre caratterizzate da pesanti brogli sul palco sono sfilati tutti gli aspiranti leader di quei partiti che puntano al centro per raccogliere il consenso di una classe media stanca di subire la democrazia fittizia e la corruzione dilagante dell'ormai decennale regime una partecipazione di massa raddoppiata rispetto alla protesta del 10 dicembre il prossimo appuntamento è fissato a febbraio un mese prima delle presidenziali e stavolta per Vladimir Putin la campagna elettorale non sarà facile per il momento gioca in difesa oggi il suo portavoce ha risposto alla prova di forza dell'opposizione sia come uomo politico che come candidato al cremlino il premier continua ad avere il sostegno della maggioranza dei russi recita il comunicato ufficiale alla manifestazione mancava l'ultimo leader dell'unione sovietica Mikhail Gorbachev proprio il 25 dicembre del 1991 si dimise da presidente il giorno dopo il soviet supremo sciolse l'unione delle repubbliche sovietiche ma da una radio di Mosca ha voluto commentare subito gli eventi voglio dare un consiglio a Vladimir Vladimirovich Putin faccia un passo indietro ha già avuto abbastanza due mandati da presidente e uno da premier sono sufficienti la Russia non ha bisogno di zar quello che chiede è democrazia vera e istituzioni responsabili ci fermiamo per la pubblicità allora non ci sono altri aggiornamenti noi ci salutiamo qui da parte mia e da parte di tutta la redazione ancora un buon Natale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti